Stefano è in meditazione sul suo dipinto, sulla sua ultima creazione. E non sei contento? No. Perché? Perché è un... Una crepa. E' una crepa. Dove? Qui. Sì. È tutto umido. E' un sacco delicato adesso. E' difficile. Mi dispiace. No ma non ti dispiace. Forse si riprende. Quando si asciuga magari si riprende, Stefano. Ridiventa bello. Ma è già bello. Solo che tu volevi una cosa diversa. E' un'altra volta, io faccio le crepe con la propria crepe. A posta. A posta. Ma per esempio... Un momento. Ciao. Con questo non è finito. Ma... Io ho lavato tutta la carta. In questo processo. E' normale che la carta diventa debole e si rompe. Si rompe. Ma questo è bello. Questo è un sacco bello. Questo a me piace un sacco perché è delicatissimo. E' delicatissimo. Ha dei colori fantastici. Aspetta. Oh yeah. E' veramente carino. Stefano ma tu sei veramente delicato. Sei delicato. Delicato e confuso. Sembra una canzone di Carmen Consoli. Delicato nella testa. Anche. Certo. Sei delicato nella testa. E nel cuore. E nel cuore sempre. E nella pancia. E nella pancia. Quello non lo so Stefano. Lì devi chiedere la tua pancia. Io proprio non lo so. Mannaggia. Che hai detto? Mannaggia gli pescetti. Come? Mannaggia gli pescetti. Va bene. Ma se no è un blob bello. E ci sono sempre i puntini. Stefano è nella fase dei puntini. E prima di essere nella fase dei puntini era nella fase delle righe. Adesso è tutto meditabondo. Meditabondo e meditazione zen. Ti sparco. Che manine sozze. Che c'è dentro la lavastoviglie? Stefano che c'è? Che c'è dentro la lavastoviglie? Così. Così. Vasetti di tè. Vasetti di tè. Non vasetti di tè Stefano. Ci sono vasetti di ex cosmetici. Se tu dici vasetti di tè, il tè si beve. Lo sai? È questa bevanda cinese. Anche. E anche? Vasetti tuoi. Stiamo lavando i vasetti, gli ex vasetti delle creme della Martina Gabbard. Veramente. È fresco? Sì. Guarda Stefano che man mano che si asciuga, lo vedi che diventa meglio. Te ne accorgi? Non voglio attendare. Non voglio attendare? Non voglio aspettare. Aspettare. Sì. Ah sì. Non sono confuso. Sono confuso. Sono confuso. Non confuso. Stai ma il confuso non ti piace? Preferisci confuso. È un confusion. Tra confuso e confucio. Ma è un confusione zen infatti come ti ho detto prima. Beh, finiamo questo video? Basta? Ciao. Ciao. Ciao painting. Ciao crepa. Ciao, migliora, diventa più bello. No, è già bello, ma diventa come vuole Stefan. Ciao. È tutto messo, non è felice. Ciao.